benvenuti su valdegnevole news oggi sono accompagnato un amico un produttore discografico marco natali delle edizioni madama d'ore ciao marco ciao ragazzi ciao ciao senti marco sono curioso cosa pensi della discografia di adesso questa è una bella domanda da un milione di euro vai detto che ne pensavo della discografia di un po di tempo fa qualche parametro ce l'avevo quella di adesso ancora ti dico la verità ci sto studiando perché non l'ho ancora afferrata perfettamente è troppo diversa da quello che era la vera discografia mondiale italiana allora allora andiamo più a fondo dal 1980 al 2016 cosa è cambiato tantissimo allora ti parto dal mille eravamo nel 1980 e a quei tempi di la discografia funzionava nei cani normali cioè si produceva un disco si stampava questo disco poi alla fine si metteva distribuzione possibilmente con una buona distribuzione o meglio ancora con una major che pensava poi anche a tutto il lato di promozione per il tempo c'era l'RCA esatto e poi dopo un po di tempo ti mandavano un bel resoconto dove ti dicevano hai venduto tanto hai venduto poco e in base a questo è forte e appetibile oppure non gliene fregava più niente nessuno esatto e c'erano dei numeri che si valutavano bene sulla carta si vedevano cioè te spedivi mille copie e te ne tornava 800 e quante ne avevi vendute? 200 vuol dire insomma oggi questo discorso è un pochino molto diciamo non vale più oggi si va anche con i file esatto è difficile da calcolare perché chiaramente attraverso il download ci affidiamo a delle ditte straniere nel mio caso io mi affido a una ditta americana che ci mette il prodotto in vendita sui vari network, i vari portali, i vari portali, iTunes e vari senti una cosa ma i giovani come affrontano diciamo il mestiere della musica? e questo è difficile ci sono personaggi e personaggi cioè ci sono personaggi che realmente vogliono fare i musicisti vogliono fare gli artisti si dedicano si prestano fanno la gavetta e durano fatica investono anche dei soldi perché muoviti segui studia tempo sudore esatto passione e ci sono quelli che invece lo fanno perché forse oggi come oggi c'è un po troppa pubblicità di questi la prendono alla leggera eh si di questi talent scout talent come si chiama e tutti vogliono fare poi alla fine l'artista però io credo che più che l'artista vogliono fare i personaggi essere famosi e questo qui vogliono 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 il loro momento esatto cercano piccato da apparire e questo fa la grande differenza fra le persone da seguire e le persone che chiaramente forse poi a livello di studio servire ecco questa è una grande differenza difficile è capirlo all'inizio perché quando arrivano le intenzioni sono tutte e sono sempre molto molto forti forti casati hanno voglia si fa qualunque cosa perciò vanno messi un po' sotto il banco di prova cioè bisogna realizzare bisogna vedere che in che tempi riescono a realizzare e come riescono anche a muoversi nel senso che quando magari tu hai un appuntamento glielo proponi se il ragazzo si muove ci va volentieri e da una buona prestazione allora comincia ad essere interessante a livello discografico da poter pensare di procedere con le produzioni magari invece da un singolo dovete venire fuori con un disco con un disco quindi io vengo da te edizione madama ti dico io voglio fare una canzone un singolo te che fai dunque ti faccio un po' di domande cioè se tu vuoi fare una canzone un singolo io essendo anche principalmente uno studio di registrazione ti faccio il singolo questo è semplicemente il lavoro poi dopo sta un po' all'artista dirmi io ho intenzione di avviarmi verso un percorso come cantante come compositore e allora ci sono svariate situazioni che vanno messe fuori ad esempio gli uffici stampa la distribuzione la pubblicità del tuo lavoro del tuo personaggio soprattutto all'inizio lo studio del personaggio questo per far capire che non ci si improvvisa mai no non è possibile farlo cioè sembra facile magari dall'esterno per quello che vediamo magari nelle televisioni ma dietro alla formazione di un artista e anche semplicemente alla realizzazione di un prodotto c'è un lavoro enorme enorme senti Marco un'ultima domanda cosa dice a questi giovani? che dico studiate la musica divertitevi cantate provateci se avete voglia perché esiste anche il corpo di fortuna non soltanto capito il doversi per forza sbattere addomina per trovare la via giusta alcune persone l'hanno trovato io ve lo auguro a tutti però comunque la cosa più importante è che chi fa musica fa comunque un'arte veramente molto nobile bene grazie Marco Natali ciao ragazzi ricordatemi di noi siamo io e furio grazie a tutti seguiteci ciao alla prossima